Il subuteo ha già arbitri donna, in queste immagini una graziosa signora francese. Il nome del gioco infine deriva dal latino subuteus, nome di una specie di falco, veloce predatore, qui effigiato in atteggiamento di grande fierezza. Un augurio forse per il nostro più umile Martin Pescatore, quello di diventare altrettanto popolare. Grazie.